Ciao a tutti ragazzi, ecco il 24 agosto 2021 siamo in Sila e finalmente siamo riusciti a riprendere questo furgoncino Volkswagen a pick up cioè aperto di dietro bellissimo, d'epoca il furgoncino Volkswagen Transporter, bellissimo, d'epoca guardate cari amici, oggi 24 agosto 2021 Camigliatello, Silano diciamo, Campo San Lorenzo diciamo Forgitelle, di Camigliatello un Volkswagen, sì, Trasporter infatti sapevo che era un Trasporter poi c'è scritto qua Volkswagen Trasporter, d'epoca, 24 agosto 2021 lo dedico a Vista Primarano, alla Vecchia Gio e a tutti i miei amici guardate qua siamo a Forgitelle bellissimo Forgitelle di Camigliatello, Silano in provincia della Sila che se viene il Marvin qua si divertirà sicuro ecco qua questo è il Volkswagen Trasporter d'epoca guardate 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 cari amici, guardate non ricordo Polis Primarano, alla Vecchia Gio a Marvin a Renato Bettini e tutti i miei amici di Facebook e di Youtube appassionati di Volkswagen Trasporter d'epoca ve lo faccio vedere così bellissimo 24 agosto 2021 Volkswagen Trasporter d'epoca guardate ve lo faccio vedere così è sporco perché si vede che ha affaticato questo camion è ancora usato questo camion questo furgoncino Volkswagen Volkswagen Trasporter e vi faccio vedere il fondo del camion che ne dite com'è il fondo? è questo qua è il camion è il camion Volkswagen Trasporter d'epoca ecco qua cari amici